A se alesti, sani se alesti deve arrecato e quando avessiate arrecato demi a mente. Avete capito? Se avete capito siete sulla strada vuole, ma se non avete capito non vi preoccupate perché la ne mai troppo tardio, per fai o spesino. Seguiteci. Benvenuti al secondo appuntamento con il corso di dialetto spesino. Abbiamo già tenuto una prima lezione che abbiamo chiamato lezione zero, in cui abbiamo presentato, abbiamo affrontato alcuni argomenti diciamo propedeutici, abbiamo sfatato alcuni miti su quello che è che non è il dialetto spesino e abbiamo individuato alcune varianti del dialetto spesino, vale a dire il dialetto spesino letterario, che è quello poi che è stato tramandato dagli scrittori, dagli autori della letteratura spesina, Ubaldo Mazzini per primo e tutti gli altri a seguire. Poi abbiamo uno spesino parlato, che è lo spesino urbano, che per una certa parte coincide con lo spesino letterario. Esiste poi lo spesino moderno, vale a dire quel dialetto che è parlato e che si discosta però dai canoni dello spesino diciamo convenzionale letterario. E questo spesino moderno ha alcune differenze rispetto allo spesino che possiamo chiamare classico e che abbiamo già accennato e che vedremo poi meglio nel prosieguo. Infine abbiamo individuato una varietà di spesino, che è quella parlata grossolanamente dalle persone che tentano di parlare spesino, magari infarcendo qualche parola di dialetto in un contesto italiano e quello l'abbiamo chiamato, io l'ho chiamato ospesinasso perché è un dialetto che praticamente non è diciamo classificabile. Tengo a ribadire che il dialetto che viene affrontato in questo corso è il dialetto classico, cioè quello che serve per capire e interpretare i testi della letteratura. E ovviamente se poi qualcuno vuole parlare e ci tiene a parlare bene può anche adeguarsi a questo modello. Dove si parla il dialetto spesino? Quindi parliamo di dialetto spesino parlato, spesino urbano. Si parla in gran parte del territorio del comune della Spezia, tranne le zone di Biassa e Campiglia, la parte orientale del comune. Quindi Biassa e Campiglia, soprattutto Biassa e Campiglia ormai il dialetto è un po' venuto meno, si è diciamo spezzinizzato, ma Biassa è una variante dialettale sua particolare, mentre la variante orientale è una variante un po' meno codificabile che si parla comunque nelle zone del termo Pitelli, San Bartonello e Pagliari, che sono poi dialetti sostanzialmente diversi, cioè sono dialetti che di tipo potremmo dire alcolano e lo vedremo poi in una puntata a parte. Senza pretendere di insegnare la grafia del dialetto spesino, perché ci vorrebbe un corso intero, ci sono ancora delle questioni aperte e poi comunque se si va a vedere la letteratura scritta non c'è uniformità, ma comunque quello che mi preme farvi vedere è quali sono i segni che troverete se andrete a leggere la letteratura spezzina. Come vedete le vocali possono essere tutte senza accento, atone e accentate, in più la E e la O possono avere l'accento acuto e l'accento grave. Quello che è importante è questo, l'accento acuto e l'accento grave sulla E e sulla O. Le vocali con l'accento acuto si leggono chiuse, le vocali con l'accento grave si leggono aperte. Vedremo adesso degli esempi e vedremo perché è importante fare attenzione a questo aspetto, perché se no si rischia di dire una cosa per l'altra. L'altro segno che troverete è la U con i due puntini sopra, che viene chiamato U francese, U turbata, come volete voi, e è quel suono U che ormai dallo spezzino moderno è praticamente scomparso. Per quanto riguarda le consonanti non ci sono grossi problemi, tranne che quando dobbiamo indicare la C velare e la C palatale utilizziamo lo stesso trucco ortografico che utilizza l'italiano. Cioè se dobbiamo dire che, mettiamo la H, se dobbiamo dire C non mettiamo la H, se dobbiamo dire Ki mettiamo la H, se dobbiamo dire C mettiamo senza H e così via, con Ciò, Ci, eccetera. Lo stesso vale per la G, 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 G. Questo è come l'italiano. Un problema importante nello spesino viene per quanto riguarda la scrittura della S e della Z. Come noi sappiamo, e come ora vedremo meglio, in dialetto spesino non esiste la Z. Questo è un dato di fatto. E spesino neghe a Z, perché quello che noi scriviamo in certi casi come Z in realtà è una S sonora. La Z dello spesino è la S dell'italiano naso, è lo stesso suono. Ora, in certi casi noi scriviamo la Z, in certi casi scriviamo la S. Questo per venire dietro a una ortografia convenzionale, anche perché se noi scrivessimo sempre il suono S sonora con la Z, dovremmo scrivere naso con la Z, invece dobbiamo scrivere naso. Però se noi vogliamo scrivere senoccio, per esempio, che vuol dire ginocchio, se lo scrivessimo con la S iniziale lo leggeremo senoccio. Quindi, quando la S è iniziale o intervocalica, se è sonora si scrive Z e se invece si scrive Z o si può scrivere anche S. Qual è la regola? Se nell'italiano c'è la S, noi scriviamo la S. Naso, peso, però se in italiano c'è un'altra lettera, per esempio Zio, per dire giro, Zee, per dire gelare, ci mettiamo la Z. Lo stesso vale per spesa, perché spesa in italiano ha la Z. In spezzino è Z, quindi lo scriviamo spesa tradizionalmente con la Z. La doppia S serve per indicare il suono sordo della S quando è fra due vocali. La differenza fra peso, che lo scriviamo con una S, e peso, che è il pesce. Peso è il peso, peso è il pesce. Quindi la doppia S in spezzino serve per indicare il suono S fra due vocali. Il suono Q è poco usato e in genere è sostituito dal suono Q, che dà luogo poi a determinati esiti fonetici che vedremo ora entrare in un famoso detto spezzino. Ora vediamo quelle che sono le caratteristiche principali del diretto spezzino, cioè quelle che fanno sì che chiunque riconosca che qualcuno che utilizza questi fenomeni, questi esiti, sta parlando in spezzino. A parte le doppie che non esistono e difficilmente le utilizziamo anche quando parliamo in italiano, ma questa è una situazione che è valida per tutta l'Italia settentrionale, tranne la doppia S che abbiamo visto, esiste ma è sempre una S sorda, non è una doppia, non abbiamo la Z, di fatti si dice senza, senza A che sarebbe la zanzara, sia che è la sera. La cosa importante dello spezzino che fa avere tutti poi quei suoni strani e anche quelle cantilene che vengono fuori quando si parla sono le cadute delle R e delle L tra le vocali. La R e la L tra le vocali non le troverete mai, quindi mangiare, tea, finire, dormire, eccetera, eccetera, eccetera. Tea vuol dire tela. La D iniziale in genere cade, si dice a toitto, imato, eccetera, eccetera. Poi il suono proprio tipico del dialetto spezzino è la E aperta, che troviamo dove in italiano c'è di tongo e dove nel genovese c'è la E. Noi diciamo schea, in italiano c'è scuola, noi diciamo fea, in italiano c'è fuori, noi diciamo nea, menea, mia nuora, in italiano c'è uo, il di tongo. In genovese c'è schea, fea, nea. Nella Lodigiana, quindi a partire già dallo spezzino orientale, c'è schoa, foa e noa. La sua nuve, l'ho già accennato, è un classico del dialetto spezzino, classico appunto, ma ormai sta andando a scomparire. Comunque la pronuncia giusta, fume, per dire fumo, ci, per dire più, la famosa, la parola molto usata, muo, che vuol dire muro e mulo. Poi abbiamo il suono C, dove in italiano ci sono degli altri suoni, per esempio abbiamo chance, chantae, in italiano abbiamo pi, piangere, piantare, riempire, pieno, e lo stesso, questo suono, pianze, piantà, in pie e pien, ce l'abbiamo nella lunigiana. Stesso suono G, per dire gese, gianda, giasso, dove in italiano c'è chiesa, gianda, ghiaccio. Questa è un'altra cosa importante, dove in italiano c'è una L davanti a una consonante, in genere in spezzino c'è una O. Per esempio si dice auto, caudo, maotto e mao, che mao è quella famosa parola che vuol dire male. Il discorso della S e della Z l'abbiamo già visto, e un'altra cosa importantissima del dialetto spezzino, che è poi quello dove i parlanti spesinassi accadono sempre, è il doppio pronome davanti al verbo, cioè si dice me, a, son, te, te, i, lui, i, è, noi, assieme, voi, assieme, lo, i, e, no, quindi me, a, te, te, lui, se è femminile, le, la, noi, a, voi, a, lo, i. Quindi, normalmente oggi si tende a confondere, a mettere sempre a, per esempio, non so, lo, a, diso, se non si può dire, lo, i, diso, te, a, disi, no, te, te, disi, questo non è che è spezzino moderno, questo è spezzino sbagliato. Quindi questa è una regola che comunque bisogna seguire se si vuole parlare di spezzino. Tenendo conto di questi fenomeni, di questi esiti che ci sono nello spezzino rispetto, diciamo, all'italiano, per fare un paragone noto, vengono fuori determinate, diciamo, curiosità. La più importante delle quali, relativamente al fatto che le vocali sono cadute, è questa qua, che è la possibilità di fare una frase, non le vocali, le consonanti intervocali che sono cadute, è la possibilità di fare una frase completa di senso compiuto senza consonanti. oppure c'è una variante che dice o, cosa vuole dire? Vuol dire ieri era olio, ora è olio, è aria oppure oro, che cosa vuol dire? È un pescatore che chiede al suo amico, collega di lavoro, com'è il mare? Lui dice il mare ieri era liscio come l'olio, oggi è pur sempre liscio come l'olio, ma c'è anche un po' di brezza. Poi questa è la famosa frase che veniva usata per prendere in giro gli spezzini, me frema i navi e ca' intercanao e ne si è fatto manco mao, è il discorso della L che ha determinati esiti, tipo mao, oppure della R che cade, marinaio, marinaio, marinao. Questa è una frase lo stesso tipica che gioca sul fatto che le di non ci sono. Quindi ha toitto, ha toetti, ha detto tanetti, sarebbe ti ho detto. Questa è la famosissima frase del bigliettaio che chiede al passeggero quando vuole scendere, che dice tecchini chi o tecchini ciù in là, che sembra cinese, no? Così per modo di dire. Questa è un'altra frase tipica che dimostra come la stessa parola possa essere intesa in tanti modi per via degli esiti appunto del latino che si è evoluto in un certo modo in uno spezzino. Buona sia sia, la maito me sia, sa me den po' le sia, per assendo l'uume stasera e buona sia sia. Che vuol dire buonasera zia, mi ha detto mia zia se mi date un po' di cera per accendere il lume questa sera e buonasera zia. E poi sempre quell'altra frase famosa che è a sua sè se assale a sé. Dice non lo so, non so se il sale è abbastanza, è sufficiente. Qui ci sono tanti esempi su cui non ci soffermeremo a lungo per far capire come la stessa parola derivante da parole latine diverse abbia avuto lo stesso esito. Cioè con una parola diversa abbia avuto lo stesso esito. Per esempio a può voler dire alla, di conseguenza ale, avaga fontana, i fiori degheri e fantele, oppure vuol dire alla o ali, no ze o senza na, oppure abbassa e a. Abbassa e a e si dice a qualcuno quando si dà un po' di aria, fa un po' lo sbruffone e dice attento, abbassa e a e perché chi nega niente da fare. E lo stesso si può dire avveggente la e a e de ca, quindi sempre l'aia questa, quindi alla, può voler dire a, alla, ala e aia. Lo stesso con coa, coe, può voler dire con la oppure coda. Ovviamente anche al plurale. Questo qui c'è un famoso proverbio, i castagni e i ganacoa, i castagni e i ganacoa, chi le ciappa le e soa. E vuol dire che le castagne, se uno va nel bosco, se le può prendere quando vuole. Questa è un'altra espressione tipica di, che si riferisce agli scherzi che facevano i ragazzi una volta, dettaggiai coa i gatti, cioè voleva dire fare delle cose cattive. Stesso discorso, co, co, e co, coi, coi e coi, che vuol dire con il, oppure con, vuol dire cavolo. Questo è ancora più complicato, l'abbiamo visto, perché vuol dire sia, vuol dire sera, cera, zia, mentre se gli mettiamo l'accento grave, lo leggiamo giustamente con l'aia aperta, viene fuori suola. Questo è il modo di dire che abbiamo già visto prima. Lo stesso meo e meo. Meo vuol dire mio, oppure vuol dire miele, mentre meo vuol dire muoio, oppure anche il molo. Quindi possono venire fuori delle frasi come queste, er meo e er meo, senza meo a meo, il miele è il mio, senza mele muoio, eccetera, eccetera, eccetera. Mio, lo stesso vuol dire muro o muro. Nissoa, per esempio, anche bisogna stare attenti, perché vi vedete nissoa e nissea, questa è una parola su cui viene fatta molta confusione. A volte si pensa che la nissoa sia la nocciola, invece la nocciola è anissea, mentre la nissoa è la lucciola. A proposito di nissoa, voglio farvi sentire una poesia di un autore degli inizi del secolo, no, insomma, metà del secolo, che era Furio Gai, di cui peraltro non conosciamo molto, e che ha scritto, appunto, la poesia Anissoa. La poesia è letta da Grazia Viola Gianelli. A Nissoa, di Furio Gai, l'è una gossa di fego, la vacciano, legea come una ciuma, e petisene, chi dorme sotto gran, ha l'usere voi occhi. E lì, la sua tranquilla frecciodende, la base Giancospin, la caessa a Sarvia, o Spigo, e Reze, sfivandole Cianin. Ascenda e smorsa, come un faro e mai, che in tà notte, i pan lumini. La pan a vita nostra, che la se sperda, lenta, in tuo destino. La brilla, in mezzo al suo, come una stela, la pan sospio d'amore, e come tutte cose, proprio belle, la campa a poche ore. Avete sentito alcune parole in questa poesia, per esempio, avrete sentito e petisene, e petisene sono i papaveri, potete aver sentito una parola, un'altra parola, e ciodende, e ciodende sono le siepi di recinzione intorno ai giardini, intorno alle case. avete sentito erese, che sono le rose, e quel famoso fenomeno che abbiamo detto, che al posto della o aperta, o del ditongo uo italiani, in spezzino c'è e aperta, aresa. sempre in questo discorso, toa e toa, che vuol dire tavola e tua, un'altra parola su cui è facile equivocare, è seso e seso. Anche in questo caso, come vedete, da aperta a chiusa, se la è aperta, se la è chiusa, il significato cambia e anche di molto, perché seso vuol dire suocero e seso vuol dire cece, quindi ovviamente anche al plurale sesoi e sesoi, la singolare di questa frase non ha molto senso, ma il plurale per esempio ha un certo senso perché dice i mesesoi, i ancotto, i sesoi. Nello spezzino moderno seso si tende piuttosto a dire seseo, però la forma classica dello spezzino è seso. Un'altra parola interessante su cui si possono fare degli equivoci è questa, cioè moro e moro, questo è moro e questo è moro. Se noi diciamo moro stiamo dicendo il muso, la faccia, se noi diciamo moro stiamo parlando del negro, della persona di carne scura. Gli avevo sempre moro dentro i piatti e ci è un verso di una poesia che ora andremo a sentire che è di un grande poeta spezzino, uno dei maggiori, che è Alberto Fagioni, e è letta questa poesia da Paolo Lo Giudice. Alberto Fagioni lo stai sento a setà perché lì si arruinava i comitati aia, scusa, la rifaccio. Dall'inizio? Dall'inizio. Bene. Alberto Fagioni, lo stai aria di Acuca, in via del Carmo, quant'anni fa, che hanno stai a sistema patriarcale, le Acuca, di cantà in modo speciale per virno strado e tripe e tripe a comedà. Casane non aveva in quantità, ma antitempi della lotta elettorale ne se poteva entrare in giunto locale dai gran gente che ghe a Trento a setà. perché lì si arruinava i comitati che invece di fare schede per votare avevo sempre il moro Trento ai piatti e quando il seongor fa bene di mangiare siccome fava sponda ai comitati andavo tutti via senza pagare. L'osteria di Acuca era una famosa osteria che c'era fino ai primi del Novecento in via del Carmine che via del Carmine è quella io dico sempre dietro dove ora c'è Uppim non mi ricordo mai com'è quell'altro negozio che c'è adesso così non mi accusano nemmeno di fare pubblicità poi è stata demolita è stata allargata è stata fatta a piazza Cesare Battisti e quella lì c'era invece c'era via del Carmo. C'era questa famosa osteria che era l'osteria della cucca e in questa poesia Fagioni l'autore racconta in particolare quando andavano a farle cene i candidati alle elezioni dice proprio l'espressione io avevo sempre il muro dentro ai piatti invece che andare a preparare le lezioni le schede pensavano solo a mangiare e avrete visto che c'è una bella espressione che dice e quando si è ancora fa bene mangiare si sono belli riempiti siccome sponda i candidati ecco questa è una bella espressione del dialetto spezzino fai sponda significa proprio esattamente tecnicamente pagare la cena o aperitivo quello che è il pranzo a qualcun altro che furbescamente è arrivato lì senza i soldi quindi fai sponda imparate questa parola per quanto riguarda invece il moro il moro quindi questo era il moro per quanto riguarda il moro c'è una bella espressione che è caduta in disuso che era quando uno faceva qualcosa che non andava bene che lo si voleva minacciare e si diceva a te dago me o tabacco del moro oppure tabacco del moro detto in spezzino proprio moderne tabacco del moro era un tipo di tabacco io non so adesso dire perché non ho mai fumato ma comunque anche se avessi fumato quello quando potevo fumare io non ce l'ho più sarebbe stato una specie di trinciato lo tabacco proprio di scarsa qualità con cui si facevano le le sigarette sapete quelle che si arrotolavano con le cartine chi è Alberto Fagioni Cavaliere Alberto Fagioni è stato appunto uno dei più importanti autori del dialetto spezzino ha scritto un famoso poemetto Asprugua appunto in cui sono ritrate tutte le persone dell'inizio del secolo difatti l'ha scritto nel 13 è nato nel 71 è morto nel 56 ha scritto anche dei testi di delle canzonette del carnevale o meno una molto famosa è questa che bella notte c'ha che era stata musicata dal maestro Mussinelli e incisa sul disco da un famosissimo barittono che era Emilio Bione che le persone di una certa età conosceranno e ricorderanno senz'altro a questo punto sempre di Fagioni vi farei sentire la poesia Ermiaco dalla Vesana è un po' lunga però è una poesia bella interessante perché farla appunto di tutti nomina tutti i tipi caratteristici botteghe eccetera che c'erano in quel periodo di cui alcuni a questo punto non sappiamo nemmeno chi erano e la poesia la legge Claudio de Laurentiis che è una vecchia conoscenza qua del Teleriguria della fase epica iniziale di Alberto Fagioni Er Miracolo da Lavesa Lei dai sei che maresio chi d'intorno date ca e casmanio casospio per podete dai nociano ma fenestra detta stanzia le seracue gelosie tete sempre lì a dormie me son proprio sfortunato ne te senti che bordello fea de modo e de manea ieno quei de maceelo chi ribate una ringhea a fenestra date stanzia le li sorve on di travaggio te te dormi e me amaraggio me son proprio sfortunato erbo la garpeto chi far fondo a Natina d'Orosseo pa chi caccia a lai al mondo dai gran corpi de Marteo che ha tolera che le sorda fino a lei la se lamenta te te dormi e te hai contenta me son proprio sfortunato a salè i gan portarvin la che muo e tutte pe strade che coi feri e i campanin pacchic fago e tre emperate e il fracasso e i diciu grossi ma i tuoi ce ienoci due ne te svesa manco e mue me son proprio sfortunato sant'antonio i fa fonzion bacinetto i tie campane tutti coro a pier perdon fin de là da san giovane manca adesso ne tarevi me ne so come la sia manca gesen a tetia me son proprio desgraciato che ti tela insieme ai porte chi fei sforzi e grida ai gente vieni avanti o ci uomo forte me ha toshtoco come niente manchi sforzi di ti tela i ne servo a desvesate ne se sa come piate me ha son proprio desgraciato li da conti ianspa propria oa na carubina dal gran corpo le trema tutta sassa colombina tutti se infasciare le finestre solo a tua le resta a tua solo te ne te paura me ha son proprio desgraciato su pavia da citadella gran aran sollevazione riva a guerra di manela adere a di palandron venga lussi e il polismen a mia e cosa è successo ne terebi manca adesso me ha son proprio despeato rosinetta avago via le hanno emeso fanteca e ho senti a santa maia batasare alla vesare ma a fenestra da testanzia la sarema in sto momento me ha te vedo e ha son contento me ha son proprio affortunato e in questa poesia ci sono avete sentito ci sono tanti riferimenti come dicevo interessanti uno in particolare è quello appunto alla vesà la vesà era la campana principale della chiesa di santa maria che era qui nel quartiere diciamo della cittadella e qui il poeta racconta che appunto va a aspettare la sua fidanzata nella strada c'è un caos incredibile tutti fanno un gran rumore ma questa questa ragazza non si sveglia alla fine poi quando lui decide di di rinunciare perché è l'ora di andare a messa alla vesà la tacca a suonare incomincia a suonare e allora la ragazza si sveglia e lui allora dice ecco la vesà ha fatto un miracolo è riuscito a far svegliare anche quella dormigliona lì e qui ecco la vesà perché era la chiamavano la vesà perché era suonava allora a mezzogiorno per cui le massaie prima si chiamavano massaie e non si offendevano se le si chiamava così adesso guai le massaie quando sentivano suonare la vesà buttavano mettevano sull'acqua buttavano la pasta e i maritti gli uomini che erano in giro per lavoro sentivano a loro volta suonare la vesà e sapevano che era l'ora di andare a casa a mangiare tutti i soggetti che nomina qui sono persone appunto che in parte si conoscono in parte no e vale la pena di nominarne uno perché era il più famoso di tutti nominano certo Galussi che era il vigile urbano il vigile urbano è una parola troppo bella per il diretto spezzino di fatti non si usa il diretto spezzino il vigile urbano si è sempre chiamato ghifa o gofa di fatti quando i bambini i ragazzetti giocavano a palone per le strade che arrivava per arrivare il vigile la ghifa si sentivano andavano un figlio ovi chi fa e allora scappavano tutti nella lezione propedeutica di questo corso abbiamo doverosamente parlato di Ubaldo Mazzini del più importante poeta dialettale spezzino e del più importante poeta dialettale spezzino del primo novecento in questa prima lezione è altrettanto doveroso parlare del più importante poeta dialettale spezzino del secondo novecento e decano dei poeti dialettali viventi parliamo cioè di Renzo Fregoso Renzo Fregoso è nato nel 1922 nel quartiere di Piazza Brì è sempre rimasto legato dal punto di vista della tematica affettiva alla zona di Piazza Brì però dal punto di vista della poetica della diciamo tecnica di poesia dialettale è da considerare un assolutamente un precursore per i suoi tempi inizi del 1950 e un vero e proprio poeta neodialettale chi sono i poeti neodialettali sono quelli che abbandonano le tematiche tipiche della poesia dialettale del primo novecento quello che in ambito ligure si chiama poesia si chiama poesia firpiana cioè diciamo la celebrazione delle piccole cose il campanile gli affetti queste cose qua Fregoso invece predilige l'aspetto stilistico cioè io direi che Fregoso è un funambolo della parola la parola per Fregoso è fondamentale rispetto al contenuto che non è che il contenuto manchi anzi è un contenuto come dicevo tipico spezzino e anche la ricerca linguistica è filologica cioè Fregoso utilizza delle espressioni spezzine classiche tipiche però le diciamo elabora alla sua maniera con un così con una combinazione vincente di italiano dialetto assonanze varie riprese di una parola rispetto di un verso finale nel verso iniziale successivo eccetera eccetera quindi direi che Fregoso Renzo è la personalità della poesia di Rattare Spezzina più importante dopo Ubardo Mazzini questo senza togliere nulla agli altri qui vedete alcune delle cose che ha fatto Fregoso alcune delle sue opere la famosa diciamo il libro con cui si è presentato al pubblico è stato più importante il Tasi Bau del 1984 e l'ultimo che ha presentato che ha scritto è Demo Adamoy che l'ha pubblicato con la camera con l'Accademia Cappellini ed è diciamo la summa di tutte le sue di tutte le sue poesie di tutte le sue non solo poesie ma anche esternazioni che ha fatto diciamo in pubblico in particolare tutti gli anni dal 1983 si presenta nella giornata di San Giuseppe presso l'Accademia Cappellini e fa un recita che è diciamo apprezzatissimo che è considerato la manifestazione dialettale spezzina più importante dell'anno per finire voglio ricordare che nel 2007 ha ricevuto un premio importante per la nostra città che è il premio San Giorgio d'oro per la sua attività poetica e per tutto quello che ha fatto a favore del dialetto e della cultura locale ma cosa come meglio come possiamo capire Fregoso chi è se non chiedendolo direttamente a lui e di fatti lo abbiamo intervistato allora siamo venuti a trovare il maestro di maestri come ho detto prima maestro te caosina chi la fa gli dicevo così a spesa no? il maestro e me ho detto o decano di poeti spesini e poi ho anche detto che mentre Masini sta il poeta più importante del primo nevesento Fregoso sta il poeta spesini più importante del secondo nevesento poi ho detto che è l'unico poeta spesini che si può considerare un poeta neodialetale cioè un poeta che ha cambiato la mania di fare la poesia che ne è ci sta ligato come si dice ai stereotipi della poesia del nevesento ma gli ha fatto tutta una sperimentazione personale e tanto è vero che mi ha detto che me lo definiscono il funambolo da Paola te sta bene questa definizione ho detto che il contenuto è importante perché il contenuto è quello che poi ti ricordi di cia sabrinda cia spesa però te travesti la temanea e te hai fatto in spesa veniai da dire in remesciò ma sei negativo allora ti hai fatto una combinazione vincente se potrai dire di spesa in d'italiano insomma te ne devi spiegare te cosa ti ha combinato ho spavicciato le parole allora ho fatto fidanzare cantare danzare e quindi il dialetto spesino ho cercato di dare una puntua di modernità ma sulle modernità anche di poesia no? sì cioè è diventare dialetto che Pier Giorgio diciamo letterario ho messo lì con il tamburello e l'orecca ma ho fatto ho vestito le parole un po' in maniera che si presentasse ben come a domenica se si mettiamo tutti in sozena e quindi mi nono forse l'avessi sentito pissando un po' nocetto per diema così si sa stocchie mi hai dito così si sa stocchie tutto tutto per die che purtroppo malgrado queste queste operazioni di rivitalizzazione ma il dialetto ormai è niente che te l'hai sempre detto che un dialetto ormai è morto no? ma proprio morto morto no? qualche corpide qua agli demonoi no? ma stai sentire ma te quando te infante te lo sentivi parlare un dialetto io anche vivo quando te te che avevi 15 anni vinti racconta un po' come parlavo e geni parlavo solo spesini come le era facendo oppure io cominciavo già ad andare verso l'italiano si io cominciavo a risentire di questa neva città che le è nata ma la ne è nata dai spesini le è nata perché parlando italiano il governo i capi l'ancala neva neva con l'arsenale da quel momento lì il dialetto gli ha subito in primo scopassone perché gli è rimasto tontonti per via che gli operai che io andato avrà già in arsenale tutti quei di spesa e quelli dei collinete circostanti di paesi circostanti e si trova a fare i conti con tutti quei che arriva a spesa da FEA per appunto rimpolpare le officine dell'arsenale che intendiamo sebbene dal punto di vista del cangio della vita da contadina industriale improvvisamente sti uomini che gli hanno trovato una mese america perché avevo il pan fisso e avevo già diciamo così modo di vive e si incontrava per la prima volta con una tecnologia di più avanzare in Europa l'arsenale di spesa è un affare molto importante dal punto di vista tecnologico e pensiamo che Marconi è venuto a spesa a fare i primi esperimenti in arsenale ecco però da quel momento il dialetto sta congelato perché se l'operaio spesino gli vorrebbe farse capire in officina da quelli che è intorno a lui e dai capi gli doveva parlare italiano e sta obbligare a battezzare i nevi strumenti del travaggio in italiano e il dialetto in assa proprio per dare nome ai cose più immediate per battezzare attrezzi e allora si è trovato un po' il dialetto si è trovato un po' spesa e non solo ma a schia e il fascismo e tanto picà sul fatto dell'italiano a scapito del dialetto che mentre i vecchi me pae me mai fra lo messio io parlavo spesino quando io parlavo con me io parlavo italiano perché perché che paeva che che parlare spesino fosse la fussa come ribatte in una condizione di nuanza dalla quale bisognava venire e insomma liberarsi e sta mautrattare il dialetto e sta relegando in canto non c'è stata più trasmissione e poi verso la metà di anni 60 70 avemo ricominciato a fare qualcosa un po' riti affaire poi te ti ha cominciato a fare trasmissione e rappresentazione a accademia cappellini insomma lì te la porta avanti anche te ma ti volevo fare una domanda a me a parte a parte che avevo nominato l'arsenale e già ai tempi dei masini e anche la di ceria a chi ne favo niente no perché era una canzonetta di carlevard del 1903 il senale non fai niente e poi vedevo l'arsenale dove non fanno chi ci fa quindi a voi dicevo che ne favo niente va bene ma invece te poesie te parli spesso con nostalgia da maina di solini di maina te parli da ritirata te parli di tutte queste cose che vorrei domandarte te come ti hai visto il rapporto tra spesa e maina è positivo negativo si è positivo perché perché maina la colo ha neva città per via prione mi ricordo quando è un fante ma anche quando è giovenotto che per via prione i su indi mainai visti di darei paevo via latte perché la che ne ha un bordello la ghia spesa la navo un prestigio perché siccome a comandare l'alto comando del tirreno qui l'alto comando della marina c'era la squadra navale che ha spesa la ghia tutto quello che si poteva avere la ghia re che veniva a fare la ghia regina che la veniva a spaccare bottiglie di champagne contro le navi che quando i baraboli collassati gli archi di trionfo per strade dove passava il re su un'auto scuverta bevo imponente come poteva essere Vittorio Emanuele III che capiva se è setà o si è un pe ecco da quel momento è calata a sospesia anche una certa corte con tutti i riti caratteristici della corte avevano accorgere che quando me avevo dire qualche parola poi il dialetto mi è già aggiunto perché è rimasto lì e non è cresciuto con noi con noi e non è stato dare al mondo chi cangiava e allora questi riti di passeggiata via Chiodo dei ufficiali e dei fantelle bene della città che hanno i riti dell'uscita dei marinai e la banda della marina al maestro Aghemo che ha un'autorità musicale di prima ordine come come dirigente della banda appunto della marina che faceva i concerti al chiosco della marina insomma improvvisamente spesa le passate a una condizione di che ha andare perché improvvisamente le passai in questa nuova condizione che ha spaesato un po' tutti ma favorevolmente perché perché insomma era una cosa nuova bella importante ha fatto tante volte questa considerazione che me che sono che ha avuto a sorte di nasce in questa città più giovane d'Italia adesso che sono arriva a se a sono arriva a se in questa città più vecchia d'Italia e più coerente di così se me noi ringraziamo ringraziamo Renzo Fregoso a potessimo stai chi anche noi a parlare con lui ma abbiamo il problema di tempi di trasmissione su del tanto nel se pepe lo sentiamo un'altra volta anzi a San Giuseppe che vai a fare recita penso di se se resisto se arrivo voentea però insomma se se ne te che vette quelli diventano matti forse li non so allora ringraziamo Renzo per avere atto odensia come si diceva una volta e l'aspettiamo per un'altra intervista fra un anno 12 20 30 anni così mi metto man avanti anche a me e prima le sarai però avremo avremo proprio sarai con uno di potremmo chiamare gli aforismi uno di di pensieri un di tanti di Renzo e lo sentimo direttamente da lui prestigia a spezia chi non sa suonare se fa uscire dal flauto un fa soleto di di ma te capi meno allora se a noi che torniamo anche prossima lesi un prima di più Grazie per la visione!